Dopo aver accolto l'opera di Dio Onnipotente, condivide con gioia con la sua famiglia la bella notizia del ritorno del Signore. Ma sua moglie e sua madre si oppongono a Lui, irritite dalle bugie del loro pastore. Mia moglie mi ha detto, «Fa una scelta, il lampo da Levante o la nostra famiglia?» Nel suo dolore, Lui ricerca il cospetto di Dio e sono il conforto e la guida delle parole di Dio a dargli la fede. Per un credente, perseguire la verità è l'unico modo significativo di vivere. Io lo sapevo e dovevo farlo al meglio e compiere il mio dovere. Condivide il Vangelo con la sua famiglia e, inaspettatamente, loro che inizialmente si erano opposti alla sua fede cambiano idea, accogliendo l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni. Mia moglie si è anche scusata, dicendo, «Non avrei dovuto opprimerti così. Mi dispiace tanto. Sentire mia moglie dire «mi dispiace» mi ha davvero commosso. Mi sono quasi messo a piangere». Come mai hanno cambiato atteggiamento? Con loro a ostacolarlo, come ha fatto a superare tutto ciò guidato da Dio passo dopo passo? Quando hai accolto l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni? L'estate scorsa. La stavo approfondendo online e altri hanno condiviso con me molte verità, ad esempio, come il Signore ritorna, come ascoltare la voce di Dio, come distinguere il vero Cristo da quelli falsi e poi tanti altri aspetti della verità. Ho letto le parole di Dio Onnipotente. Ho indagato per circa due mesi. Convinto che Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato. Entusiasta, ho accolto la Sua opera degli ultimi giorni. Non vedevo l'ora di dare alla mia famiglia la bella notizia del ritorno del Signore per portarli davanti a Dio. Ma prima che avessi la possibilità di condividere il Vangelo con loro, il mio comandante di battaglione mi ha riconvocato. Hai perso l'occasione. Sì, ho condiviso il Vangelo con loro in seguito. Una volta, io e mia moglie abbiamo iniziato a parlare di come accogliere il Signore e lei mi ha chiesto se credessi nel lampo d'Alevante. Il pastore ha detto che i Suoi membri lasciavano la famiglia e voleva che rinunciassi. Mi ha fatto malissimo e mi sono infuriato. Le ho risposto, non essere sciocca. Come puoi credere alle parole del pastore? Esiste una qualche base per le sue affermazioni? Credo in Dio Onnipotente da oltre quattro mesi. Ti ho forse abbandonata? Trascuro la famiglia? So solo che il PCC arresta e perseguita i credenti con ferocia, dividendo molte delle loro famiglie. Come può il partito affermare che non vogliamo le nostre famiglie? Queste sono tutte menzogne. Non ascoltare le loro dicerie e le loro bugie. Poi le ho detto una persona ragionevole dovrebbe fare qualche ricerca sulla venuta del Signore e capire se le parole di Dio Onnipotente sono la voce di Dio. È scritto nella lettera ai Romani 10, 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E il Signore Gesù disse Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Le pecore di Dio sentono la Sua voce, quindi dovremmo indagare su ciò che riguarda la venuta del Signore e dovremmo ascoltare la Sua voce. Le parole di Dio sono la verità, sono potenti e autorevoli. Non potrebbe pronunciarle un uomo. Ho constatato che Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato, perché le Sue parole sono la verità, sono la voce di Dio. Lei cosa ha risposto? Non mi ha ascoltato, quindi non mi restava che riagganciare. L'ho richiamata un paio di settimane dopo, ma lei ha rifiutato la chiamata. Poi ha iniziato a tempestarmi di chiamate mentre ero riunito con Lampo d'Alevante. Io non riuscivo a calmarmi né a ricevere illuminazione dalle parole di Dio. Io non sapevo cosa fare, così ho pregato Dio chiedendogli di guidarmi e a uscirne. Dopo aver pregato, ho compreso che anche se non capivo la volontà di Dio in quella situazione, dovevo avere fede. Non dovevo farmi condizionare, ma pensare alla riunione. Così mi sono calmato un po'. Ma poi un giorno mia moglie di colpo mi ha chiamato e mi ha detto, «Hai comprato un telefono per ascoltare i sermoni quando nostra figlia è malata. Ora non avremo i soldi per curarla. Non ti stai prendendo cura di lei a causa della tua fede». Sapevo che lo diceva solo perché non voleva che credessi in Dio Onnipotente. Potevamo anche chiedere a un prestito, ed è una cosa piuttosto normale che i bambini si ammalino. Si sarebbe ammalata a prescindere dalla mia fede. Anch'io voglio il meglio per lei. Come poteva fraintendermi così? Vederla usare la malattia di nostra figlia come pretesto per dissuadermi dalla fede e mi ha davvero turbato. Prima che rispondessi, ha aggiunto, «Se ti ostini a credere al lampo d'Alevante, forse un giorno non saremo più una famiglia». Le sue parole sono state davvero strazianti. Mi chiedevo se volesse davvero divorziare con una figlia così piccola. Mi sono sentito malissimo e ho riattaccato senza dire altro. Ma le sue parole continuavano a tormentarmi e non ho potuto fare a meno di incolpare Dio. Mi chiedevo perché non avesse protetto l'armonia familiare e la salute di nostra figlia. Non capivi perché ciò stesse accadendo. Esatto. Per un po' non sono riuscito ad acquietarmi davanti a Dio, né ero ispirato per le condivisioni. Così in ginocchio ho detto a Dio, «Dio, la mia levatura è scarsa. Sono depresso da quando mia moglie mi ha parlato così. Resta a mio fianco e guidami a capire la Tua volontà». Quella sera ho letto un passo delle parole di Dio Onnipotente. Vorrei leggerlo. Va bene. Dio Onnipotente dice «Mentre subiscono le prove, è normale che gli uomini siano deboli o abbiano in sé della negatività o un manchino di chiarezza riguardo alla volontà di Dio o la loro via della pratica. Ma tu comunque devi avere fede nell'opera di Dio e non rinnegarlo, proprio come Giobbe. Sebbene fosse debole e maledicesse il giorno in cui era nato, Giobbe non negò che tutte le cose della vita umana fossero elargite da Yahweh e che Yahweh è anche colui che le toglie tutte. In qualunque modo fosse messo alla prova, mantenne questa fede. Nella tua esperienza, indipendentemente da quale raffinamento tu subisca attraverso le parole di Dio, ciò che Dio vuole dall'umanità, in sintesi, è la fede e l'amore dell'umanità per Lui. Ciò che Egli perfeziona operando in questo modo è la fede, l'amore e le aspirazioni degli uomini. Dio compie l'opera della perfezione sugli uomini e loro non possono vederla, non possono sentirla. In queste circostanze è necessario che tu abbia fede. La fede degli uomini è necessaria quando non si può vedere qualcosa a occhio nudo e la tua fede è necessaria quando non puoi rinunciare alle tue nozioni. Quando non hai chiarezza in merito all'opera di Dio, ciò che ti è richiesto è avere fede, prendere una posizione salda e rendere testimonianza. Quando Giobbe arrivò a questo punto, Dio gli apparve e gli parlò. In altre parole, è solo da dentro la tua fede che sarai in grado di vedere Dio. E quando avrai fede, Dio ti porterà a perfezione. Senza fede non può farlo. Amen. Le Sue parole mi hanno mostrato che il cammino verso il Suo regno non è solo rose e fiori. Esistono difficoltà e prove di ogni sorta e accadranno cose sgradite. Ma bisogna attraversare tutto questo per rivelare se abbiamo vera fede in Dio e se sappiamo rendergli testimonianza. Quando mia moglie non voleva che credesse in Dio onnipotente, all'inizio ho avuto la fede per testimoniare a lei. Ma quando ho amminacciato di divorziare e nostra figlia si è ammalata, ho iniziato a lamentarmi. Ho incolpato Dio per non aver protetto la mia famiglia e per la malattia di mia figlia. Ho visto che non avevo vera fede in Lui. Un paio di imprevisti ho iniziato a incolparlo. Era una testimonianza la mia. Poi mi sono chiesto perché ho perso la fede in Dio appena è capitato qualcosa alla mia famiglia. Perché non riuscivo a non incolparlo. E come hai affrontato questo problema? Ho letto un passo delle parole di Dio che mi ha fatto capire le mie idee sbagliate sulla fede. Guardiamo una videolettura di quel passo. D'accordo. Non credi alle parole che dico e non poni alcuna attenzione a esse. Quando arriverà il giorno di diffondere questa opera e la vedrai nella sua totalità, ti pentirai e in quel momento resterai interdetto. Ci sono benedizioni, eppure non sai goderne. E c'è la verità, ma tu non la persegui. Non ti biasimi per questo. Oggi, anche se la fase successiva dell'opera di Dio deve ancora iniziare, non c'è niente di eccezionale in merito alle richieste a te fatte e a ciò che ti viene chiesto di vivere. C'è tanta opera e così tante verità. Non sono degne di essere conosciute da te? Il castigo e il giudizio di Dio non sono in grado di risvegliare il tuo spirito? Il castigo e il giudizio di Dio non sono capaci di farti odiare te stesso? Sei contento di vivere sotto l'influenza di Satana, in pace e gioia e con un po' di conforto carnale? Non sei la più infima di tutte le persone? Nessuno è più stolto di coloro che pur avendo contemplato la salvezza, non cercano di ottenerla. Sono persone che si saziano della carne e godono di Satana. Speri che la tua fede in Dio non comporti sfide o tribolazioni, né la benché minima avversità. Persegui costantemente cose immeritevoli e non attribuisci alcun valore alla vita e anteponi, invece, i tuoi pensieri stravaganti alla verità. Sei talmente indegno. Ciò che persegui è essere in grado di ottenere la pace dopo aver creduto in Dio. Perché i tuoi figli non si ammalino? Perché tuo marito abbia un buon lavoro? Tuo figlio trovi una buona moglie? Tua figlia trovi un marito rispettabile? I tuoi buoi e cavalli arino la terra per bene? Perché ci sia un anno di bel tempo per le tue colture? Questo è ciò che ricerchi. Ti preoccupi solo di vivere nell'agiatezza e che nessuna disgrazia si abbatta sulla tua famiglia, che i venti ti passino accanto, che il tuo viso non sia aggraffiato dal pietrisco, che le colture della tua famiglia non vengano inondate, di non subire alcun disastro, di vivere nell'abbraccio di Dio, di vivere in una casa accogliente, un vigliacco come te che persegue costantemente la carne. Hai forse un cuore, uno spirito? Non sei una bestia? Io ti do la vera via senza chiedere nulla in cambio, ma tu non la persegui. Sei uno di quelli che credono in Dio? Ti dono la vita umana vera, ma tu non la persegui. Non sei allora del tutto simile a un maiale o a un cane? I maiali non aspirano alla vita dell'uomo né a essere purificati e non capiscono che cosa sia la vita. Ogni giorno, dopo aver mangiato a sazietà, si mettono semplicemente a dormire. Io ti ho dato la vera via, ma tu non l'hai guadagnata. Sei a mani vuote. Sei disposto a continuare a condurre questa vita, la vita di un maiale? Quale significato ha, per persone simili, essere vive? La tua vita è spregevole e ignobile. Vivi in mezzo a sudiciume e dissolutezza e non persegui alcun obiettivo. Non è la tua vita la più ignobile di tutte? Hai l'impudenza di volgere lo sguardo a Dio? Se continui a fare esperienza in questo modo, non è che non otterrai nulla? Ti è stata data la vera via, ma che alla fine tu la possa guadagnare o meno dipende dalla tua ricerca personale. Qui ho trovato la risposta. Il mio obiettivo di fede era sbagliato. Non miravo a ottenere la verità. Volevo una vita facile e il benessere della mia famiglia. Volevo vivere nell'abbraccio di Dio, godere della Sua grazia. Quando mi donava le Sue benedizioni, avevo la fede per seguirlo. Ma quando ho avuto problemi a casa e mia figlia si è ammalata, mi sono lamentato e l'ho incolpato per non aver protetto la mia famiglia. Non avevo una fede autentica. Ero persino offeso da quanto mi accadeva, convinto che Dio dovesse benedirmi per la mia fede, che non avrei dovuto affrontare quei problemi. Poi ho capito che la mia fede aveva il solo scopo di ricevere benedizioni e non era all'altezza delle prove. Avere fede e adorare Dio è giusto e naturale. Come l'affetto dei figli per i genitori, non si fanno trattative con Dio. Io volevo sempre qualcosa da Lui, la Sua grazia e le Sue benedizioni. Ero privo di coscienza. Ero la persona di cui Dio parlava, priva di cuore e spirito. Quella fede era in armonia con la Sua volontà. A quel punto ho visto che le mie difficoltà erano state permesse da Dio e affrontarle stava mettendo a nudo le mie prospettive errate sulla fede, affinché potessi riflettere e conoscere me stesso attraverso le parole di Dio e acquisire vera fede in Lui. Dio mi donava purificazione e la salvezza. Comprendere la Sua volontà mi ha dato fede in Lui. Non cercavo più la pace e le benedizioni per la mia famiglia. Dovevo partecipare alle riunioni. Ho deciso al cospetto di Dio che qualsiasi cosa fosse accaduta, avrei continuato a perseguire la verità. La tua prospettiva sulla fede è cambiata? Di fatto, attraverso quelle difficoltà, hai notato i problemi della tua fede. Hai guadagnato qualcosa. Esatto. Lode a Dio. Ecco un altro passo delle parole di Dio Onipotente. A cosa si riferisce questa parola? Fede. Fede è la convinzione veritiera e il cuore sincero che gli esseri umani dovrebbero possedere quando non possono vedere o toccare qualcosa con mano, quando l'opera di Dio non è in linea con le nozioni umane, quando va oltre l'umana portata. E' questa la fede di cui parlo. Gli uomini hanno bisogno della fede nei momenti di difficoltà e di raffinamento e la fede è qualcosa a cui segue il raffinamento. Raffinamento e fede non sono separabili. Comunque Dio operi o qualunque sia il tuo ambiente, sei in grado di perseguire la vita e ricercare la verità, ricercare la conoscenza dell'opera di Dio, comprendere le sue azioni e di agire in armonia con la verità. Agire in questo modo significa avere una fede autentica e agire in questo modo dimostra che non hai perso la fede in Dio. Solo se riesci a persistere nel perseguire la verità attraverso il raffinamento, se sei in grado di amare davvero Dio e di non maturare dubbi su di Lui, se qualunque cosa Egli faccia pratichi comunque la verità per soddisfarlo e se sei in grado di ricercare in profondità la Sua volontà e di rispettarla, solo così puoi nutrire un'autentica fede in Dio. Amen. Dalle parole di Dio ho imparato che sia che le cose vadano bene o che siano difficili, non possiamo dubitare di Dio né incolparlo. Dobbiamo ricercare la Sua volontà, stare al Suo fianco, agire secondo le Sue parole e soddisfarlo, a prescindere da tutto, solo questa è vera fede. Tale comprensione mi ha fornito una via di pratica e la fede per seguire Dio. Lode a Dio! Come si è comportata poi tua moglie? In seguito, ho telefonato a mia madre. Le ho chiesto di mia moglie. Mi ha detto che passava giorni dai suoi genitori invece di occuparsi della nostra casa, che era del tutto irriconoscibile. Il pastore, inoltre, aveva detto a mia madre che la mia strada era sbagliata e la mia fede un tradimento del Signore Gesù di riportarmi nella chiesa e farmi lasciare il lampo d'Alevante. Sentirlo mi ha fatto proprio infuriare. Mi chiedevo perché il clero diffondesse simili menzogne. Era stato a causa delle loro false dicerie che mia moglie si era opposta alla mia fede? Non potevano limitarmi. Non dovevo ascoltarli qualunque cosa dicessero. Ci ho riflettuto e ho detto a mia madre questa cosa. Mamma, non dare ascolto a quanto afferma è clero. Dio Onnipotente ha espresso tante verità ed è la voce di Dio. Egli è il Signore Gesù ritornato. Lui e il Signore Gesù sono lo stesso Dio. Quindi la mia fede non è un tradimento, ma è seguire le orme dell'agnello e accogliere il Signore. Lei in quel momento non mi ha risposto nulla. Poi ho chiamato mia moglie. Con mia sorpresa, era arrabbiata. Mi ha detto, «Perché mi stai chiamando? Credevo non ti importasse più di noi. Ora devi fare una scelta. Il lampo d'Alevante o la nostra famiglia? Puoi anche disinteressarti a me, ma pensa a nostra figlia. Ha solo otto mesi. Deve essere stata una cosa terribile da sentire. Sì, mi ha davvero sconvolto. Io non capivo. Partecipavo solo agli incontri e leggevo le parole di Dio. Ero sulla giusta via. Non ho mai rifiutato la nostra famiglia e ci tenevo a nostra figlia. Perché avrebbe dovuto costringermi a quella scelta? Poi però ho capito che non sapeva cosa fosse la fede in Dio e non mi avrebbe ascoltato. Ma farmi rinunciare alla mia fede era fuori discussione. Ero sicuro che Egli è il Signore Gesù ritornato. Quindi avrei continuato a seguire Dio Onnipotente. Quando ha visto che non rispondevo, allora ha riagganciato. Le parole di mia moglie erano state devastanti per me, ma sapevo che non potevo continuare a incolpare Dio come in passato. Dovevo avere fede a fidarmi a Dio per superarlo. Poi ho ascoltato un inno delle parole di Dio. Abbandona tutto per la verità. Ora lo leggo. Bene. Devi patire privazioni per la verità, dare te stesso alla verità, sopportare umiliazioni per la verità e per ottenerne di più devi subire ulteriori sofferenze. Questo è ciò che dovresti fare. Non devi gettare via la verità per una vita pacifica in famiglia e non devi perdere la dignità e l'integrità della tua vita per un momentaneo godimento. Dovresti perseguire tutto ciò che è bello e buono e cercare un cammino di vita che sia più significativo. Se conduci un'esistenza così mediocre e non persegui alcun obiettivo, non stai sprecando la tua vita. Cosa puoi guadagnare da una vita del genere? Dovresti rinunciare a tutti i piaceri della carne per il bene di una verità e non dovresti gettare via tutte le verità per il bene di un po' di divertimento. Persone simili non hanno alcuna integrità né dignità, non vi ha alcun significato nella loro esistenza. Amen. La mia fede si è rafforzata. L'unico modo significativo per vivere è perseguire la verità e io lo sapevo. Non potevo perdere la fede per problemi familiari o difficoltà materiali. Non avere fede, non adorare Dio è una vita priva di significato e valore. La mia famiglia e la salute di mia figlia erano nelle mani di Dio. A Lui dovevo consegnarle e sottomettermi senza farmi limitare da loro. Dovevo perseguire la verità al meglio e compiere il mio dovere. La verità ha di sicuro il massimo valore. Sì. Così hai mantenuto la tua fede nonostante l'opposizione della tua famiglia. Come hai superato quell'impasse e come hanno accolto l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni? Dovevo tornare a casa perché era il momento di rinnovare la mia carta di identità. Sarebbe stata una buona occasione per condividere il Vangelo con loro. Ero entusiasta. Ma ero anche preoccupato perché mia moglie e mia madre erano contrari alla mia fede e tutti lì sapevano in cosa credevo. Se il clero locale avesse saputo che ero tornato, mi avrebbero ostacolato. Non avevo idea di come potesse andare e così ho pregato Dio dicendo, Poi ho ascoltato un altro inno delle parole di Dio. Di fronte a tutte le persone e le questioni e le cose che incontrerai, la parola di Dio ti apparirà in ogni momento, guidandoti ad agire secondo la Sua volontà. Fa tutto nella parola di Dio e Dio ti indicherà la strada in ogni tua azione. Non ti smarrerai mai e sarai in grado di vivere in una nuova luce con illuminazioni sempre crescenti e più nuove. Non puoi rimuginare su cosa fare basandoti sulle nozioni umane. Dovresti sottometterti alla guida della parola di Dio, avere un cuore puro, stare in silenzio davanti a Dio e riflettere di più. Non affannarti a cercare soluzioni a ciò che non capisci. Porta più spesso tali questioni davanti a Dio e offregli un cuore sincero. Abbi fede nel fatto che Dio è il tuo onnipotente, il tuo anelito verso Dio deve essere smisurato. Devi ricercare con ardente fervore e rifiutare i pretesti, le intenzioni e gli inganni di Satana. Non disperare, non essere debole. Cerca con tutto il tuo cuore, aspetta con tutto il tuo cuore, collabora attivamente con Dio e liberati delle tue resistenze interiori. Ascoltando quell'inno, sapevo che dietro a quel viaggio si celava la volontà di Dio, solo che avevo poca fede e non comprendevo la Sua volontà, ma dovevo affidarmi a Lui in questo. E la frase «Abbi fede nel fatto che Dio è il tuo onnipotente mi ha colpito», le parole di Dio mi hanno dato fede. Ci ho pensato su. Qualsiasi cosa mi accada ogni giorno viene permessa da Dio. Se mi affido veramente a Lui e guardo a Lui, credo che Egli mi guiderà ad affrontare tutto attraverso le Sue parole. Lode a Dio. La tua fede è cresciuta. Sì. Ma la tua famiglia era molto ostile. Condividere il Vangelo con loro deve essere stato difficile. Lo è stato. Quando sono tornato a casa, mia moglie mi ignorava, ma sapevo che era solo a causa dell'influenza del pastore su di lei. Dovevo parlarle dell'opera di Dio degli ultimi giorni perché conoscesse la verità e il pastore non la ingannasse. Così ho pregato Dio chiedendogli di guidarmi. Poi, ho condiviso con lei alcune parole sincere. Le ho detto, dovreste approfondire l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni e leggere le sue parole. Vedrete che si tratta della voce di Dio, delle sue parole rivolte all'umanità e che Egli è il Signore Gesù ritornato. Se non indagate e non ascoltate la voce di Dio e credete alle dicerie e alle bugie del clero, come accoglierete il Signore? Il Signore Gesù disse, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Il Signore è leale. Se vi cerchiamo con sincerità, sentiremo la voce di Dio e accoglieremo il ritorno del Signore. E lei che cosa ha risposto? È stato sorprendente. Mi ha ascoltato in silenzio e non sembrava più così ostile e polemica. Ho ringraziato Dio dal cuore sapendo che era la Sua guida. Mi ha dato la fiducia per continuare a parlare della Sua opera. Il giorno dopo, ho condiviso il Vangelo con lei e con mia madre. Gli ho detto, perché ho accolto l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni? Perché ho letto le parole di Dio Onnipotente e ho visto che sono la verità, sono la voce di Dio. Ed ero certo che è il Signore Gesù ritornato. Negli ultimi giorni, Dio Onnipotente ha pronunciato molte parole, rivelandoci tutti i misteri del Suo piano di gestione di 6.000 anni e della Bibbia. Nonché lo sviluppo dell'umanità fino ad oggi, come siamo stati corrotti da Satana, come Dio opera passo dopo passo per salvare l'umanità, come stabilisce il nostro esito, chi verrà salvato a pieno ed entrerà nel regno e chi sarà punito. Dio ci ha detto tutto questo. Ci ha anche rivelato la verità su come l'uomo è stato corrotto da Satana e la radice della nostra ribellione a Dio. Inoltre, ci ha mostrato la via per la totale purificazione del peccato. Ogni Sua parola è verità ed è potente e autorevole. Dio Onnipotente ha espresso tutto questo per purificarci e trasformarci, per salvarci completamente dal controllo di Satana. A quel punto ho chiesto loro chi esprime verità e salva le persone. Solo Dio può. Gli uomini non possiedono la verità. Solo Cristo è la via, la verità e la vita. Poi ho continuato. Dovreste leggere le parole di Dio Onnipotente. Allora vedrete che sono la verità, la voce di Dio e che Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato. Se qualcuno testimonia che il Signore è ritornato e non indagate, anzi, lo condannate solo per ciò che dice il pastore, non avrete più l'occasione di accogliere il Signore. Sarebbe una perdita enorme. Certo. E loro che cosa hanno detto? Mia madre ha risposto «Sì, hai ragione. Dio ha creato l'umanità. Dovremmo ascoltare ciò che dice Dio, non le altre persone». Ero felice che lo dicesse e ho ringraziato Dio Onnipotente. E poi lei mi ha raccontato una cosa. Una volta ho chiesto al pastore di pregare per noi, ma lui mi ha detto «Tuo figlio non dà ascolto a noi, il clero. Non ha avuto il nostro permesso di seguire Dio Onnipotente. Lui ci ignora completamente, quindi non chiederci più aiuto per i tuoi affari di famiglia, veditela da sola». Venirlo a sapere mi ha fatto infuriare. Le ho detto «In quanto membri del clero, dovrebbero guidare i credenti a verificare qualsiasi annuncio del ritorno del Signore. Non solo si rifiutano di farlo, ma minacciano i credenti, impedendo loro di accogliere il Signore. Quali sono i loro obiettivi? Non cercano forse di controllare tutte le persone? Il Signore Gesù maledisse i farisei. Quando il Signore Gesù apparve, i farisei gli si opposero ferocemente e lo condannarono per tenere in pugno il popolo ebraico. Alla fine fecero crocifiggere il Signore Gesù e poi furono puniti da Dio. I pastori odierni sono proprio come i farisei. Non solo rifiutano di ricercare e indagare, ma allontanano i credenti dalla vera via, si comportano come nemici di Dio. Alla fine anche loro saranno maledetti e puniti. Poi ho fornito una testimonianza su come ascoltare la voce di Dio per accogliere il Signore. che è il solo modo per essere vergini saggi e accogliere il Signore. E poi le ho volute esortare. Spero davvero che approfondiate l'opera di Dio onipotente degli ultimi giorni e leggiate le Sue parole, così da verificare se sono la voce di Dio. Non vorrei sapervi ingannate e retite dal clero. Dovete avere discernimento. Loro che cosa hanno risposto? Mia madre mi ha ascoltato e ha detto, hai ragione. Ho sempre seguito il nostro clero temendo che tu prendessi la via sbagliata. Per questo ho cercato di impedirti di credere in Dio onipotente. Ma la tua condivisione trova forti conferme nella Bibbia e le cose non stanno proprio come le hanno descritte i pastori. Quindi indagherò. E tua moglie? È rimasta lì. Ascoltava molto attentamente. in seguito gli ho letto molte parole di Dio onipotente spiegato la differenza che c'è tra seguire Dio e gli uomini perché Dio oggi compie nella carne l'opera di giudizio finale e il significato dell'opera di Dio degli ultimi giorni. E così, dopo diverse condivisioni, entrambe hanno accolto l'opera di Dio onipotente degli ultimi giorni. Lode a Dio. Vederle venire entrambe davanti a Dio è stato emozionante per me e ho ringraziato Dio. È stato l'amore di Dio. Lode a Dio. In passato, a causa del pastore, erano ostili alla tua fede. Accogliere la vera via e presentarsi davanti a Dio è stata la guida di Dio. Sì, lode a Dio. Poi, mia moglie si è aperta con me. Mi ha detto «Ti ho oppresso e ti ho persino minacciato di divorziare e tutto perché ascoltavo il pastore. Ogni volta che andavo in chiesa, mi diceva che eri sulla strada sbagliata e dovevi tornare indietro. Avevo paura che avesse ragione, quindi discutevo sempre con te e mi rifiutavo di ascoltarti. Ma in seguito alle letture delle parole di Dio onipotente e alle tue condivisioni, ho visto che è totalmente diverso da quanto immaginassi. e ha aggiunto «Se ripenso a come ero verso la nuova opera di Dio, ho paura. Stavo lottando contro Dio e ho rischiato di non accogliere la venuta del Signore». Poi mi ha chiesto scusa, dicendo «Non avrei dovuto trattarti così. Mi dispiace tanto». Quando ho sentito mia moglie dire «Mi dispiace, mi ha davvero commosso, stavo per mettermi a piangere». ero grato a Dio. Hai incontrato ostacoli nel condividere il Vangelo con la famiglia. Sì, ma ho sentito gli sforzi del cuore di Dio per salvare l'umanità. Egli permette che affrontiamo queste difficoltà per smascherare la nostra corruzione e perfezionare la nostra fede in Lui. A volte soffro e mi sento debole e tormentato, ma Dio non mi abbandona mai e mi guida sempre con le Sue parole. Ciò mi fa capire le mie idee sbagliate sulla fede e imparare alcune verità e rafforza la mia fede in Dio. Tutto grazie alla Sua guida. Sia lodato Dio. Lodi a Dio. Sia lodato Dio.